Buon appetito! 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 Oh basta, come abbiamo detto prima, questo è l'ultimo pezzo, quindi per non fare storti alla canaletta qui, che cazzo sto dicendo, penultimo pezzo, e dai ragazzi, io sono un pezziare. Boh andiamo con un pezzo che abbiamo fatto tanti anni fa è la canzone d'amore. Noi! Noi! Noi!